Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale! Sono tornata da Torino e adesso in questo tempo non molto carino di Milano perché sta facendo abbastanza brutto Vi faccio vedere i miei acquisti, il bucol di miei acquisti per questo Torino Aspettate che se non cade tutto vi faccio anche vedere cosa vedremo Questi, adesso li appoggio qua Allora, partiamo, non andrò in ordine cronologico di quello che ho comprato Quindi vi farò vedere un po' Però questa è la prima cosa che ho comprato, non l'ho ancora aperta bene ma è bellissima È una grafica della via riedizione E cioè ragazzi è bellissima, avevano tutti questi disegni stracarini Di tanti dimensioni, forme diverse A me è piaciuto un sacco e quindi volevo prenderli tutti, non potevo e quindi ho preso solo questo Ma veramente li avrei presi tutti Tutte le case di dici che vi citerò, se hanno un sito online ve lo lascio qui sotto Una pagina Instagram particolarmente attiva ve lo lascio qui sotto così potete un po' andare a sbirciare Tipo questi sono bellissimi e secondo me meritano un sacco di essere visti Faccio già una side stories da questo book haul perché sono partita in quarta Vi farò prima questo book haul e poi forse un brevissimo commento su Torino E varie questioni su appunto Torino Intanto andiamo avanti Il secondo acquisto che ho fatto è stato questo Creiamo Cultura Insieme di Irene che ha una pagina su Youtube che vi lascio assolutamente qui sotto Perché vi dico tutte le volte di andarla a vedere perché lei è bravissima Ha una pagina, penso che anche su Youtube le si chiami Cimi di Rapa E comunque fa una lubrica che si chiama Parità in Pillole Ogni settimana parla di un argomento per sensibilizzare appunto a questioni della comunità LGBT Questioni sulla nostra fisicità, sul nostro corpo Un sacco di bellissime cose da vedere Quindi io ve lo consiglio e vi consiglio anche questo libro perché ne parla veramente tanto Sono dieci consigli per dare un'opinione utile Non un giudizio, lei dice per iniziare una discussione e fare una discussione corretta E diciamo non imporsi ma appunto dialogare E a me come libro interessa tantissimo, era un sacco che volevo leggerlo E ho colto a fagiolo la situazione perché lei è venuta, me l'ha anche firmato E quindi ho detto lo prendo E non vedo di leggerlo e poi di parlarvene perché anche quando poi lo ha visto Simona Anche Simona di La Biblionauta che la vedrete tantissimo nel vlog Non so quale uscirà prima dei due Comunque lei ha detto che appunto è assurdo che nella società dei social sia necessario un libro del genere Però è necessario cioè perché veramente con i social e con l'anonimato magari o con la non presenza fisica Ci sentiamo in diritto di dare il nostro giudizio su qualsiasi cosa e nel modo che ci pare Quando invece non è così, cioè c'è modo e modo di esprimere la propria opinione C'è modo e modo di dialogare con l'altro Quindi questo libro non dovrebbe essere necessario e invece nel mondo di oggi secondo me è più necessario che mai Quindi anche qui sotto vi lascio il link per comprarlo Ragazzi prendetelo Il prossimo libro che ho comprato e che era un sacco di tempo che volevo comprare Ma mi ero sempre un po' indecisa perché avevo paura che No, in realtà non è che non avevo paura Ogni volta che sono andata alle fiere c'erano altri libri che volevo comprare La lista si allungava troppo e quindi non l'ho mai comprato Invece stavolta l'ho preso Si tratta di Il castello errante di Owl Che è il primo libro di una trilogia dei libri da cui è stato tratto il film di Miyazaki Il castello errante di Owl Vi faccio vedere Non vedo Ok Questo libro è edito da K-Lab Che vi lascio anche qui sotto perché è uscita attualmente Ah, non vi ho detto i prezzi Ops Allora, questo costa 15 Ci sono tre volumi Ma se volete c'è anche il volume unico della trilogia a 35 euro Questo qui invece costa 13,90 Io poi in fiera l'ho pagato 12 o 11 Quindi ottimo affarone E poi vabbè la grafichina qui l'ho pagata 3 euro Ma non so se era un prezzo di fiera o no Comunque questo è abbastanza autoesplicativo Se conoscete Il castello errante di Owl Non è molto autoesplicativo Ma è un libro Parla appunto di questa storia di questa mia omonima Sofì Che si trova a essere coinvolta Poi non so quanto il libro si distacchi dal film Comunque si trova a essere coinvolta Nelle vicende di questa casa Di questo castello E di Owl Questo uomo che però Ha altre capacità Dei poteri particolari Non vi voglio dire troppo perché non so quanto si colga Se non avete visto il film di Miyazaki Ve lo consiglio veramente tanto È un anime meraviglioso Costruito benissimo Ma a parte che Miyazaki è bravo in tutti i film che fa Poi Essendo ripresa la Come si dice Il club del libro di In Omnia Paratus Organizzato da I Feel Book Che vi lascio anche questo Su Instagram qui sotto Ho comprato il libro di questo mese Che sinceramente non ho ancora iniziato Ma inizierò molto presto Si tratta di La Notte Di anche questo spero di pronunciare bene Ellie Weisel Weisel Non sono sicura Comunque è edito Giuntina E costa 10 euro Io ho comprato molti dei libri Che saranno letti penso nel futuro Per il club del libro Di In Omnia Paratus Quindi in realtà Mi fa piacere ricominciare E sinceramente Non è Ultimamente Non ho fatto molte letture Legate a La Shoah Quindi Visto che a gennaio Non mi sono Non ho partecipato con La giusta Non voglio dire intraprendenza Quanto con La giusta attenzione Non gli ho dato il giusto peso Recupero adesso Meglio tardi che mai Mi verrà da dire Poi Ho comprato Un altro libro Dalla casa editrice Gainsworth Che non conoscevo sinceramente È un libro per bambini E la ragazza Che me l'ha venduto La signora che me l'ha venduto Ce l'ha fatto Me l'ha fatto notare Più e più volte E che mi ha fatto anche ridere Perché quando alla fine L'ho comprato Lei mi fa È per una bambina O per un bambino E io dico Per me Comunque Si chiama Eve L'ho già dimenticato Eve Il principe dei topi Le cronache di lattina Cioè già dal titolo Però Cioè allora Guardate un attimo La copertina Perché a me Aveva conquistato anche quella Vedete appare Qui di lato Questo libro Non deve essere molto lungo Però mi piaceva un sacco Per il fatto che Non leggo spesso Libri per bambini E invece Mi piacerebbe scoprire E uscire un po' Da quella che è La tipica Diciamo Zona Comfort Libri per bambini O quelli più conosciuti E questo libro Mi ha conquistato subito E quindi ho detto Perché non comprarlo E quindi adesso L'ho qua In lettura Vediamo quando Avrò tempo di leggere Effettivamente Il prezzo di copertina E' 16,50 Io in fiera L'ho pagato 15 Però Vedremo se la spesa Vale il libro Ok Siamo già arrivati Agli ultimi due Ci ho cercato di trattenermi Un po' Non è che proprio Mi sono trattenuta tantissimo Però un po' Mi sono trattenuta Il libro che ho comprato In realtà anche questo Era un libro Che io volevo Da tantissimo tempo Ma non avevo mai avuto Occasione di trovare E comprare E quando l'ho visto qui L'ho guardato per un po' L'editore L'editore Appunto Le ragazze che lavoravano lì Me ne hanno un po' parlato E mi hanno parlato anche Di un altro progetto Che adesso vi faccio vedere Il libro di cui vi sto parlando È Tutte le ragazze avanti Che non si vede benissimo Perché è molto chiaro È una raccolta di Non vorrei proprio chiamarli saggi Perché sono saggi Però sono più storie Racconti Riflessioni Di varie donne Sul femminismo Sul femminismo Sul ruolo della donna Su quale sono Le lotte in corso Sulla loro esperienza Come donne E io sono già arrivata a metà Mi sta piacendo Veramente Veramente tanto E quindi Questo sarà sicuramente Uno dei libri Che vi commenterò Più Prossimamente Quindi non vi dico Molto altro Ma l'ho comprato anche Questo ho preso Di copertina di 11 euro Perché insieme a questo Mi hanno dato Il manifesto Delle ragazze È un progetto Di cui vi parlerò Molto meglio Nel video dedicato Però Come potete vedere È un poster Che hanno creato Una serie di ragazze Lavorando insieme Facendo dei progetti E degli incontri Su appunto Il femminismo In generale Ma anche proprio Le loro esperienze Nella loro vita E che cosa Ha rappresentato Per loro Questo libro Quindi Ve ne parlerò Molto presto Ultimo E non meno importante Libro Allora Questo in realtà Non è un libro È stato uno di quei libri E Mel Mi ha seguito In questo percorso Di Lo compro Non lo compro Lo compro Lo compro Perché era un po' Indecisa Soprattutto per il prezzo Perché avevo già fatto Tante spese Ed è stato L'ultimo acquisto Di fiera Stiamo parlando Di una graphic novel Ovvero Salem Adesso ve la faccio vedere Perché la cosa Che a me Era piaciuta Di più Era principalmente La copertina Che era un po' Ovunque Ma secondo me Era bellissima Salem Ha un prezzo Di copertina Di 26 euro Ed è Della casa Di grice Diabolo Diabolo È una Una Io L'ho appena Cominciata Proprio Se potete vedere I disegni Sono Non il Solito Non il tipico Disegno Che a me piace Io sono più Per un disegno Più Tondeggiante E Completo Nel senso Più da manga Ecco Più da manga Manga Shoujo Cioè Quello è il tipico Disegno Che di solito A me piace Ciononostante Mi ha conquistato Come idea Anche perché Mentre poi aspettavo Per comprarlo E decidere Ho un po' Sentito Quello che diceva Una delle ragazze Che lavorava lì Scusate ragazzi Io non so Se chiamarli Editor Perché non ho Avuto modo Di chiedere Se erano lì Perché lavorano Sono state chiamate Per questo evento Perché sono gli editor Che hanno portato In Italia Questi libri Comunque O comunque Li hanno pubblicati In Italia Comunque Questa ragazza Stava spiegando Come Thomas Gilbert Che io ho incontrato E di cui mi sono fatta fare Anche il disegno Ma ve ne parlerò meglio Quando vi farò Il video In particolare Su questo libro Thomas Gilbert Ha fatto varie ricerche Sui processi Alle streghe A Salem In particolare Ma in generale E quello che è stato Il loro ruolo E quello che è stata La loro Anche violenza A volte La paura Che hanno portato E la paura Che era In generale Insita Nelle persone Che quindi Poi è sfociata In processi Per le streghe Per trovare Un colpevole A cui dare la colpa Insomma E come argomento Mi piace molto Perché è un argomento Secondo me I processi delle streghe Diventano un argomento Molto attuale Nella misura In cui noi pensiamo A quanto ogni volta Noi cerchiamo Un capo espiatorio A cui dare tutte le colpe E attaccare All'epoca Erano Le donne Streghe A poi ci sono state La seconda guerra mondiale Gli ebrei C'è sempre qualcuno A cui dare la colpa Quindi secondo me È molto attuale E adesso l'ho cominciato E non vedo a definirlo Anche questo Per potervene parlare Ho cercato di fare Un book haul Abbastanza veloce Anche se sono già 15 minuti di video Per il semplice fatto Che vorrei fare Un commento finale Io di solito Non mi Non voglio dire accanisco Semplicemente Non prendo sempre Parte Alle discussioni Che partono online Su qualsiasi argomento E non parlo di discussioni Per forza negative Parlo di discussioni Anche utili Dialoghi utili Che vengono creati A volte preferisco Ascoltare Vedere E senza Prendere troppo parte Però ci sono due Argomenti Che Uno iniziale E uno finale Che hanno Un po' caratterizzato Questo salone di Torino Mi sembra Il primo ovviamente È stato La partecipazione Della casa editrice Altaforte Al salone di Torino Che poi ovviamente È stata annullata E è stata anche La ragione Per cui poi Alla fine Ho partecipato Perché anche a me Era venuto un po' Il dubbio Su che Posizione Prendere Su questo punto Di vista Io ho letto Molti commenti Sotto il post Di salone di Torino Quando hanno detto Appunto che Questa casa editrice Non avrebbe potuto Partecipare Gli era stato impedito Di partecipare Tra cui molti Attaccavano Una libertà Di parola Di pensiero Di espressione Io Inizio A spaventarmi Un po' Sulla nostra idea Di libertà Di espressione E di parola So che qui Sto creando Un dibattito Che qua sotto Mi uccideranno In 200 Se vedono Questo video Però comunque Secondo me La libertà Di espressione Ci sta Avere un'opinione È normale Ed è giusto Ascoltare L'opinione Altrui Però Come dice spesso Anche Irene Di punto cime Di rapa La parità in pillole Un'opinione Non è che Se tu hai un'opinione Su un argomento Vale come valore Esattamente Come una persona Che ha Studiato Quell'argomento E qui ovviamente Prendo il tema Molto gettonato Dei vaccini Se non sei un medico Avere un'opinione Sui vaccini Cioè nel senso Piano Perché non è che Ne sai come una persona Che magari È dieci anni Che studia queste cose Per farle bene E il fascismo Raga Non è che puoi avere un'opinione Abbiamo creato Un danno Che tutti gli anni Dobbiamo ricordare Con una festa nazionale Quindi Come possiamo avere un'opinione Su quello Come qualcosa di giusto Cioè come qualcosa di appoggiare Non è togliere la libertà Di opinione O di espressione È che semplicemente Certe cose La nostra società Non le può accettare Perché Io l'ho detto Un sacco di volte Se la casa editrice Non fosse stata Una casa editrice fascista Ma che portava avanti Dei libri Sulla positività Della pedofilia Non avremmo neanche Avuto un dibattito A riguardo Sul se o no Farli partecipare Perché no Perché noi siamo contro Ed è giusto Che siamo contro Della pedofilia È sbagliata Quindi Cioè Se questa cosa Si può essere fatta Per un argomento Deve essere fatta Per gli argomenti Che subentrano qui E qui chiudo Perché poi dopo Veramente aprirei Un dibattito Infinito Magari Se Normalmente Qui vi vorrei riportare A cima di capa Ma se in maniera educata Qualcuno ha voglia Di rispondermi Perché la vede In modo diverso Da me Io sono pronta A ascoltare Le vostre opinioni E La mia posizione Adesso la sapete Quindi Vi lascio La parola A riguardo Il secondo argomento Un pelo più leggero È stato quello Che poi è stato portato avanti Un po' In questo dialogo Da Bookblister E da tutti i bookblogger Su un articolo Della stampa Ovvero sul fatto Che i bookblogger Avrebbero invaso Il salone di Torino E che A quanto pare Staremmo Ferendo Attaccando Non lo so Come dire la parola I librai Le case editrici Perché Gli rubiamo il lavoro Cioè Non si è capito bene L'articolo Non era scritto grandissimi Molto molto bene Ecco diciamo così Fatto sta che Il mondo dei bookblogger Secondo me È una realtà bellissima E Vi posso garantire Che io non so Mediamente Quanti libri comprano I lettori che vanno A Torino Ma Vi posso anche garantire Che Tutte le persone bookblogger Che io ho visto Andare al salone di Torino Hanno comprato Tanti di quei libri Che Male all'editoria Noi non facciamo Cioè proprio zero Ovvio che C'è tutto il discorso di Amazon Cioè l'affiliazione a Amazon Cosa può portare via Dall'editoria Dalle case editrici Dai librai Più che alle case editrici Più ai librai Però anche quello Molte volte Noi ci troviamo a parlare Su Youtube O su altri canali Di libri Che magari non hanno Un facile accesso In libreria Perché sono libri molto vecchi Con edizioni molto vecchie O comunque libri Non facilmente accessibili E dare un appoggio A Un'altra piattaforma Che può essere Amazon Può essere utile Anche perché appunto Poi questo Ne parlavano In un Non un incontro Che ho fatto a Salone di Torino Ma che ho fatto In Statale a Milano Con un editore A volte proprio i libri Non ce la fanno A tenere tutto Il materiale Tutti i libri Nella loro libreria Perché non c'è fisicamente spazio Quindi Tengono i più recenti Ma già i più Meno recenti O i meno venduti Fanno più fatica A tenerli Quindi Secondo me Si può creare anche Grazie ai bookblogger Uno scambio maggiore E dire che Noi Stiamo facendo del male Ai librai Non mi sembra molto sensato Perché lavoriamo Nello stesso campo E cerchiamo Di Promuovere La cultura Promuovere i libri Poi c'è un modo Di fare bookblogging Ci sono 10.000 Questioni Dietro Che poi Molti hanno portato su Però comunque È stato un articolo Un po' strano da leggere Niente a quanto pare Le mie macchine fotografiche Non sono molto contenta Che io faccia un video Vediamo Vabbè Quello che stavo dicendo Chi lo fa per passione Chi lo fa per lavoro Ci sono tante ragioni Per cui si fa Bookblogging Per cui si consigliano Libri agli altri Però secondo me Attaccare una realtà Come il bookblogging Come una realtà Che ruba Il lavoro Anzi Secondo me Dovrebbe essere Una categoria Quella dei bookblogger Una categoria Che deve essere Valutata in modo diverso Deve essere soprattutto Rivalutata e definita Perché per ora È questa marmaglia Di persone Però non si capisce bene Dove si va a parare Quindi in generale Non L'articolo mi ha fatto Un po' più ridere Che altro Perché mi sembrava Un po' Sì questi Il vecchio Libraio In pericolo Attaccato Da questi bookblogger Che Consigliano libri Quindi boh Comunque Un po' così Se anche voi avete un'opinione A riguardo Anche in questo caso Lasciatemi magari un commentino Qui sotto E se ne parla Un po' Bene ragazzi Qui si conclude il book haul E il commento A questi due argomenti Il sale di Torino È stato veramente Una bellissima esperienza Ma penso che Potrete Vederlo dal vlog Che ho fatto In tutti i giorni Ho camminato Vi ho fatto vedere stand È stato un ottimo momento Per prima di tutto Interagire con Case editrici Editori Con realtà Che conoscevo molto poco Non è stato un grande evento Diciamo Un grande salone Per gli eventi Perché è stato difficile Partecipare ad eventi Più che altro Per la quantità di gente E lo poco spazio Che un evento A quanto poco spazio Si dava un evento Nel senso che C'erano veramente pochi posti dentro O le sale erano Veramente Veramente Molto piccole Che può essere Un indizio Per i prossimi Magari Allargare un po' Le sale per gli eventi E lasciare le persone Che possono entrare Sedersi Trovare qualcosa Però in generale Una bellissima esperienza Che sono molto contenta Di aver fatto E ovviamente Non posso che ringraziare Un'altra volta Mel e Simo Per aver partecipato Con me Per avermi accompagnato E essersi prese cura di me Vi lascio i loro canali Qui sotto Noi ci vediamo presto Con altre letture Altri commenti Come vi ho detto Questi sono i libri Che ho comprato Ma ci sono tante altre letture Che sto portando avanti Di cui non vedo l'ora Di parlarvi Quindi voi rimanete Aggiornati Vi ringrazio per aver guardato Questo video Anche se era molto 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 Lungo E come ultima cosa Se questo video vi è piaciuto Vi ricordo Le nostre tre little rules Ovvero mettere mi piace Instagram Mettere mi piace A questo video YouTube E iscrivervi al mio canale Inoltre Per non perdervi Tutti gli aggiornamenti Eccetera Mettete anche La campanellina Che non so dove sia Quindi se non la trovate Vi capisco Non è un problema Ciao